...llo Statuto della Regione Sicilia, Felice Giuffré, sulla situazione delle autonomie speciali anche in relazione all'attuazione del PNRR. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza degli auditi e dei componenti da Commissione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento della Camera dei Deputati, nella riunione del 4 novembre 2020. In proposito, ricordo che anche ai parlamentari collegati in videoconferenza non è consentito esporre cartelli o scritte, secondo le regole ordinarie vigenti per la partecipazione alle sedute. Faccio inoltre presente per i parlamentari partecipanti da remoto la necessità che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, il quale dovrà ovviamente essere udibile. La Presidenza non potrà infatti dare la parola ai parlamentari non visibili o i cui interventi non siano chiaramente percepibili. A tale fine occorre dunque assicurarsi di disporre di una connessione Internet stabile, evitando ad esempio di collegarsi da mezzi di trasporto in movimento, condizione che di solito rende insufficienti la stabilità e la qualità della connessione stessa. Quanto ai deputati presenti in Aula nel corso delle audizioni, ricordo che per ragioni tecniche legate alle infrastrutture tecnologiche utilizzate per il collegamento in videoconferenza non saranno visibili nella schermata di videoconferenza né nella ripresa sulla TV della Camera. L'ordine del giorno reca l'audizione informale in videoconferenza del Presidente della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto della Regione Sicilia, Felice Giuffre, sulla situazione delle autonomie speciali anche in relazione all'attuazione del PNRR, avverto che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni. Prendo atto non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Dopo l'intervento del Professor Giuffre darò la parola ai commissari che desiderano intervenire per un tempo di intervento di due minuti ciascuno in modo da disporre di un tempo per le repliche. Do quindi la parola al Professor Giuffre con la preghiera di contenere il suo intervento in dieci minuti in modo da avere il tempo per eventuali domande e per le repliche. Prego, Professor Giuffre. Buongiorno a lei. Grazie Presidente, buongiorno, ringrazio lei e ringrazio tutti gli onorevoli deputati e senatori componenti della Commissione per questa opportunità. La Sicilia, come è noto, è stata la prima regione a statuto speciale, è stato un terreno di sperimentazione del regionalismo italiano ed è stata quindi la prima regione a prevedere nel proprio statuto una commissione paritetica prevista dall'articolo 43 per l'approvazione delle norme transitorie che dovevano consentire l'entrata in vigore e l'operatività dell'autonomia speciale, ma anche per l'approvazione di tutte le norme di attuazione statutaria che via via si fossero rese necessarie. Lo statuto della regione siciliana, proprio perché era il terreno di sperimentazione del regionalismo ancora prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ricordiamo che lo statuto speciale risale al 15 maggio 1946, quindi un anno e mezzo prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, ha una natura particolare. Se andiamo a rileggere le norme dello statuto ci rendiamo conto che si tratta di un atto quasi pattizio fra una regione che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, anzi quasi oltre la metà della Seconda Guerra Mondiale, aveva attraversato vicende particolari e il nuovo ordinamento, che poi sarebbe diventato l'ordinamento repubblicano, che si andava a ricostituire. Questa natura pattizia si rivela nelle norme dello statuto. Certo una natura pattizia che è stata poi ridimensionata nel momento in cui è entrata in vigore la Costituzione repubblicana e in particolare la Corte Costituzionale che si è impegnata a ricondurre ad un disegno omogeneo anche la specialità regionale siciliana. Tuttavia questa natura emerge, riemerge in modo carsico dalle norme di rango costituzionale dello statuto che richiedono attuazione. La commissione paritetica quindi è quella più anziana, quella che ha lavorato di più per ragioni di tempo e si occupa di alcune cose molto importanti, prima fra tutte quella relativa all'assetto dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione. Si tratta di una questione assai delicata su cui anche questa commissione paritetica che ho l'onore di presiedere è impegnata. Devo ricordare al riguardo che questa è la questione centrale dell'autonomia, di tutte le autonomie ma ancora di più dell'autonomia speciale. Perché come ha detto anche la Corte dei Conti nella relazione di parifica per il bilancio 2018 e per quella del 2019, non vi può essere autonomia senza sostenibilità finanziaria. E la Corte dei Conti della Regione siciliana in sede di parifica del bilancio ha certificato l'insostenibilità dell'autonomia nella situazione attuale, sollecitando la ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione. La stessa sollecitazione pressante, con alcune sentenze e monito che si sono ripetute anche negli ultimi anni, è stata fatta dalla Corte Costituzionale. Qual è lo stato dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione? Diciamo che le norme di attuazione organiche risalgono al 1965, si tratta del DPR 1074. Queste norme si occupavano di attuare gli articoli 36, 37, 38 dello Statuto Speciale che definiscono le basi dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione. Il problema è che nel 1971, come tutti sappiamo, è intervenuta la riforma del sistema tributario e si è passati da una imposizione che prendeva come base dell'imposizione fiscale il territorio ad un sistema di imposizione che ruotava intorno al domicilio fiscale. Questo evidentemente ha reso praticamente inservibili le norme del vecchio DPR 1074 del 1965 e tuttavia nonostante siano passati ormai oltre 50 anni dal 1971-72, cioè dall'epoca della riforma fiscale, ancora oggi non si è giunti ad una ridefinizione dei rapporti finanziari. Ci sono stati una serie di accordi fra lo Stato e la regione, accordi privi di organicità, anticipazioni da parte dello Stato con previsioni di futuri conguaghi, ma non vi è stata mai una ridefinizione organica dei rapporti finanziari, con grave compressione dell'autonomia e come dicevo prima questo lo ha sottolineato più volte la Corte Costituzionale. Peraltro alcuni di questi accordi sono stati fatti direttamente dal Governo nazionale e dal Governo regionale senza passare dalla Commissione paritetica che con una norma costituzionale è l'unico organo competente, previo accordo politico ovviamente fra lo Stato e la regione a prevedere queste norme. Quindi diciamo che questo argomento è l'argomento centrale, senza adeguate risorse finanziarie l'autonomia è soltanto un simulacro di autonomia. Diciamo che qualche novità su questo punto si intravede perché nel recente accordo di finanza pubblica sottoscritto dal Ministero dell'Economia e dall'assessore all'economia della regione siciliana Norevole Armao e con l'intervento del Presidente Musumesci, sono state previste alcune tappe che devono portare alla definizione di questi rapporti, alla ridefinizione organica di questi rapporti che poi saranno trasmessi e esaminati e tradotti in norme di attuazione dalla Commissione paritetica che ho l'onore di presiedere. Si sono in particolare previste alcune scadenze, si è previsto che il tavolo tecnico fra il Ministero dell'Economia e l'assessorato all'economia della regione siciliana concluda entro il 30 maggio il negoziato per la definizione dei contenuti che poi dovranno essere tradotti nelle norme da trasmettere alla Commissione paritetica e si è prevista una scadenza al 30 giugno per la chiusura del negoziato. Quindi si tratta di un momento molto delicato e molto importante per l'autonomia che vedrà nei prossimi mesi impegnata la Commissione paritetica ed è molto importante perché senza, come dicevo prima, la definizione di questi rapporti la regione siciliana non è in grado, come ci dicono tanto la Corte dei Conti quanto la Corte Costituzionale, di sostenere le funzioni che afferiscono alle competenze già trasferite. Quindi non soltanto ancora ci sono competenze e funzioni statutarie non trasferite e quindi che permangono in capo allo Stato, ma al momento con questo assetto di rapporti finanziari la regione, non lo dice la regione ma lo dicono organi giurisdizionali, non è in grado di sostenere le sue funzioni. Quindi questo mi sembra l'argomento centrale. Peraltro questa situazione è stata più aggravata dal pesante contributo al risanamento della finanza pubblica che è stato imposto alla regione siciliana. Tanto per dare un'idea, il contributo al risanamento della finanza pubblica è stato di 639 milioni nel 2012 ed è arrivato addirittura a 1 miliardo 304 milioni nel 2018 e poi si è mantenuto sopra il miliardo nel 2019, 2020, 2021. Si tratta di costi insostenibili che peraltro si aggiungono a quelli della insularità. A questo proposito, e chiudo questo primo intervento poi magari interverrò su sollecitazione degli onorevoli deputati o senatori, a questo proposito è una legge dello Stato ha attribuito la legge 178 del 2020 e poi la legge di bilancio per il 2021, ha attribuito alla commissione paritetica Stato-Regione la quantificazione dei costi dell'insularità. Questo perché la previsione deve essere utilizzata nella redazione della legge di bilancio dello Stato per le eventuali compensazioni. Bene, per la prima volta quest'anno la commissione paritetica ha svolto questa indagine servendosi, come prevede la legge di bilancio dello Stato, di istituzioni pubbliche, istituzioni accademiche, e ha quantificato lo studio che poi è stato approvato dalla commissione paritetica che presiede, ha quantificato i costi annui dell'insularità in circa 6 miliardi di euro. Questa posta è stata una delle basi su cui si è svolta la negoziazione per l'accordo di finanza e sarà una delle basi che dovrà essere tenuta in considerazione per la definizione dei nuovi rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione. Teniamo conto che il costo del ponte sullo stretto, che è uno degli elementi che potrebbero a mio avviso, ma non solo a mio avviso, risolvere o abbattere i costi dell'insularità, è di poco superiore ai 6 miliardi. Solo le campate verrebbero a costare 4 miliardi e le opere accessorie un po' più di 2 miliardi. Il costo annuo dell'insularità per i siciliani è di 6 miliardi, che poi è una cifra che corrisponde all'abbattimento del PIL in questi anni di pandemia. Quindi ci rendiamo conto come sia importante intervenire non solo sugli articoli 36 e 37, ma anche sull'articolo 38, per colmare il divario in termini di infrastrutture che rendono ancora più pesante la condizione di insularità in cui si trovano i siciliani. Grazie Presidente. Sì, la ringrazio Professor Giuffre. Adesso do la parola ai colleghi, pregandoli di contenere gli interventi, considerato che il Senato ha anticipato tra l'altro la seduta alle 9.30, quindi abbiamo ancora due audizioni. Dobbiamo essere un attimino rapidi. Allora, si è iscritta la collega onorevole Tripodi, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, ringrazio il Presidente Giuffre e volevo porre una domanda che ho fatto anche la volta scorsa al Presidente della Commissione Paritetica per la Valle d'Osta. Allora, siccome questa è una tematica che è stata affrontata sia a livello parlamentare ma anche a livello governativo attraverso anche dei tavoli ministeriali, poi c'è anche una proposta di legge che riguarda l'allineamento normativo, economico e previdenziale del corpo forestale della Regione siciliana con le forze di polizia nazionali, volevo chiedere se per caso, per quanto di competenza del Presidente ma anche della stessa Commissione Paritetica, se la Commissione Paritetica sia a lavoro anche su delle norme di attazione che vanno appunto nella direzione di equiparare e uniformare la situazione pensionistica e previdenziale del corpo forestale regionale con i corpi di polizia nazionali. Se si sta parlando, se se ne è parlato, se si sta appunto lavorando questa norma di attuazione e nel caso si stesse lavorando questa norma di attuazione, in quale direzione si sta andando? Grazie. Perfetto. Magari faccio intervenire gli altri due colleghi e poi le do la parola, a meno che lei non voglia rispondere, se preferisce rispondere subito le do la parola. Perfetto. Ah no, no, beh, faccio l'unica risposta. Perfetto, la ringrazio. Do la parola alla collega, alla senatrice Drago, prego, che è collegata. Prego, senatrice. Dovrebbe attivare l'audio perché non la sentiamo. Sì. Prego. Io non riesco a vedere, comunque. Ok, adesso ho sistemato il video, va bene. Allora, intanto buongiorno a lei, Presidente Giuffre, il nostro Presidente della Commissione, grazie per la relazione che non avevo dubbi sarebbe stata esaustiva. Ho necessità però di qualche chiarimento. Nella sua disamina ha rappresentato il fatto che con un intervento normativo appunto nel 71, diciamo, quanto era stato stabilito nel DPR del 1974, di fatto poi trovò, diciamo, un freno. Ecco, volevo capire, o meglio, una difficoltà di attuazione. Ecco, volevo capire allo stato attuale, quindi, visto e considerato che gli articoli a cui ho fatto riferimento del 36, il 37 e il 38, in particolar modo i primi due riguardano la fiscalità di sviluppo e quindi un tema assolutamente importante, volevo capire appunto quale sia lo stato dell'arte. Immagino sicuramente che in questo tavolo tecnico a cui faceva riferimento tra assessorato del Ministero, evidentemente, è il tema principale. E poi, nulla, mi preme sottolineare, ma questo da un punto di vista politico, che quel riferimento, se non erro, la relazione a cui faceva cenno, cioè di alcune scelte che vennero operate d'accordo tra Stato e Regioni, senza passare dalla Commissione Pariderica, fosse avvenuto appunto durante, se non erro, il governo Renzi e quindi con Crocetta, il Presidente Crocetta. Questo è un particolare per me che sottolineo in quanto la richiesta è conclusa. La richiesta che gentilmente la Commissione ha accolto, che ho avanzato proprio di audizione, dei Presidenti delle cinque Commissioni Paritetiche, delle cinque Commissioni Paritetiche, scusate, delle Regioni a Statuto Speciale, era proprio legata al fatto che stiamo portando avanti un lavoro sulle autonomie differenziate e quindi era, ritengo e importante, il fatto che si metta ordine, quindi si concludano i lavori di attuazione degli statuti delle Regioni Speciali e quindi si possa poi andare avanti magari accogliendo, così come già stiamo facendo, ci stiamo lavorando, le proposte ad esempio di autonomia differenziale. E concludo dicendo e sottolineando quello che, diciamo, intuitivamente era comprensibile ma che organi istituzionali, chiaramente di rilievo, hanno già sancito che non vi può essere unità nazionale laddove non vi è equità fiscale. Grazie. Perfetto, la ringrazio. Adesso è iscritto a parlare il Senatore Mollame. Prego. Mi sentite? Sì, sì, la sentiamo. Prego. Grazie Presidente, grazie al Professor Giuffre per gli argomenti e per la relazione che è stata molto interessante. Una precisazione, ecco, o un piuttosto forse anche un chiarimento. Proprio perché in questa commissione abbiamo parlato molto di autonomie differenziate e adesso ci apprestiamo a dare sviluppo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ecco, mi interesserebbe capire quale sono le macrococi che compongono quel costo, quell'importo di 6 miliardi relativo ai costi dell'insolarità. Mi immagino il primo tema, il trasporto, tant'è che il Professore ha fatto riferimento appunto sullo stretto. Ecco, se ce ne sono altri anche. Grazie. Perfetto, la ringrazio. Non ci sono altri iscritti. Do la parola al Professor Giuffre. Prego, Professore. Grazie, grazie Presidente. Comincio dalla domanda dell'onorevole Tripodi. Corpo forestale. Noi al momento non abbiamo un disegno di legge in questo senso. Preciso che la commissione paritetica, che non ha una regolamentazione analitica del suo funzionamento nell'articolo 43 dello Statuto, lavora su impulso del governo regionale o del governo nazionale. Fermo restando che noi ci occupiamo anche di ridefinire i contenuti dei disegni di legge che ci vengono trasmessi proprio per tradurre in atti normativi anche le negoziazioni che avvengono fra Stato e Regioni, talvolta anche attraverso la paritetica. Però ho ricevuto un'anticipazione dal governo regionale che mi ha preannunziato l'invio di un disegno di legge che penso sia in corso di preparazione che riguarda la ristrutturazione di tutti i corpi di polizia amministrativa della regione siciliana. Quindi in primo luogo il corpo forestale, ma si pensa di integrare la normativa sul corpo forestale anche con una normativa che riguarda la polizia amministrativa del demanio idrico e altri aspetti di questo genere. Presumo che nell'ambito di questo disegno di legge che mi è stato preannunziato vi sarà anche una norma o alcune previsioni che riguardano l'allineamento delle posizioni con gli altri corpi dello Stato, ma su questo sarà mia cura verificare. Per quanto riguarda le domande o le sollecitazioni dell'onorevole Drago, della senatrice Drago, sulla fiscalità di sviluppo vi era una previsione specifica nell'accordo di finanza 2022-2025 sottoscritto dal governo alla fine dell'anno passato, alla fine del 2021. La commissione paritetica si è riunita in tempi rapidissimi dopo quindici giorni, dopo dieci giorni ed ha approvato alcuni disegni di legge attuativi dell'accordo di finanza. Intanto un disegno di legge che ha completato il ricepimento delle norme sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e il recupero dei residui accertati, ma soprattutto per quel che riguarda le considerazioni del senatore Drago, un disegno di legge che consente alla regione siciliana di intervenire nel rispetto delle norme dell'Unione Europea sulle aliquote, azzerandole, prevedendo esenzioni, detrazioni e deduzioni per consentire interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale. Quindi la regione siciliana non appena il disegno di legge sarà trasfuso dal governo in un decreto legislativo e poi sarà firmato dal Presidente della Repubblica, siamo in attesa dei pareri dei ministeri competenti, la regione europea potrà disporre di queste leve per favorire l'insediamento di imprese di cittadini europee ed extraeuropee nel territorio della regione siciliana. Quindi sotto questo profilo già abbiamo adotto, per quanto di competenza della regione speciale abbiamo adempiuto il nostro compito siamo in attesa che il percorso si esaurisca. Per quanto riguarda l'autonomia differenziata, io credo che come ci hanno segnalato tanto la Corte dei Conti quanto la Corte Costituzionale, il nucleo centrale di ogni autonomia è quello dell'autonomia finanziaria. Sarebbe mai strano che nel momento in cui si riavvia il percorso, si dovesse riavviare il percorso per attuare la previsione costituzionale sull'autonomia differenziata, non si giunga ancora prima alla corretta attuazione della specialità regionale. Sarebbe mai strano che la regione che ha fatto da apripista l'autonomia regionale, costituendo un esempio anche per altri ordinamenti, pensiamo la Spagna, la Costituzione spagnola ha preso a modello il regionalismo italiano e è andato oltre, forse con alcuni effetti non desiderati, abbiamo visto cosa è successo in Catalogna, quindi bisogna stare anche molto attenti ai profili di garanzia dell'unità nazionale, ma sarebbe mai strano che altre regioni vadano avanti, quasi superando l'autonomia delle regioni speciali, mentre la specialità regionale costituisca un freno piuttosto che una possibilità di sviluppo, quindi bisogna, come dire, quantomeno andare in parallelo, diciamo così. E la leva è sempre quella. Rimaneva l'ultima domanda, non ho preso l'appunto, non mi ricordo. Il senatore Mollame era intervenuto sui 6 miliardi dell'insularità. Allora, se il Presidente mi permette, io per rispondere in maniera analitica al senatore Mollame depositerei agli atti della Commissione lo studio sulla stima dei costi che la Commissione paritetica ha approvato. È uno studio di 50 pagine, redatto da professori universitari di varie discipline. Abbiamo chiesto anche il parere all'Istat e alla Banca d'Italia. L'Istat ci ha risposto, l'Ufficio studio della Banca d'Italia, no, ma i tempi erano molto stretti perché la norma era stata approvata dal Parlamento quasi a ridosso del termine e la Commissione si era ricostituita da poche settimane. Quindi se prestiamo, Presidente, lei mi permette, io depositerei agli atti direttamente lo studio, così ogni deputato e senatore potrà avere contezza di quello che è stato previsto e che è stato a base di queste stime. Perfetto, sì, certamente accogliamo la sua proposta. Professor Giuffre, penso che i colleghi siano tutti d'accordo e quindi aspettiamo queste informazioni che farà pervenire alla Commissione. E poi la ringraziamo per essere intervenuto, perché adesso abbiamo un'altra audizione, tra l'altro siamo un pochino di corsa. E ripeto, trasmetteremo la documentazione a tutti i colleghi, anche a quelli assenti. La ringrazio, grazie mille. Grazie, grazie, buon lavoro. Buongiorno, buon lavoro a lei. La Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto della Regione Friuli-Venezia-Giulia, Giulia Elena d'Orlando, sulla situazione dell'autonomia speciale anche in relazione all'attuazione del PNRR. Buongiorno, dottoressa. Chiedo ai colleghi se ci siano obiezioni sull'attivazione della web tv. Non ci sono. Perfetto. Anche all'audita. La ringrazio. Prendo atto che non ci sono. Dopo l'intervento della professoressa d'Orlando darò la parola ai commissari che desiderano intervenire pregandoli di contenere i loro interventi in due minuti, considerato anche che il Senato ha anticipato le sedute. Do quindi la parola alla professoressa d'Orlando con la preghiera di contenere il suo intervento in dieci minuti, se ci riusciamo magari anche un po' più sintetico e considerati tempi strettissimi, ahimè, in modo da avere il tempo per eventuali domande per le repliche. Prego, prego professoressa. Grazie Presidente. Desidero innanzitutto formulare un più ampio ringraziamento per l'attenzione che questa commissione ha riservato. Mi perdoni, professoressa, la mascherina. Ah, la mascherina. Mi perdoni, sono proprio... Scusate. Dobbiamo essere formali. La ringrazio. Prego. Dicevo, volevo ringraziare la commissione per l'attenzione riservata alle commissioni paritetiche e per l'attuazione degli statuti speciali. Tra l'altro questa commissione anche in passato si è resa promotrice di indagini ad ampio spettro su questo tema, che a mio avviso attesta una sensibilità politica istituzionale significativa di questa commissione su queste tematiche. Una sensibilità che a mio avviso ben coglie il significato che ci proviene dal quadro costituzionale in cui le autonomie speciali non sono da considerarsi dei corpi estranei all'ordinamento, ma sono parti costitutive e distintive del nostro regionalismo e anzi possono diventare anche degli interessanti laboratori di sperimentazione per aprire dei nuovi scenari, diciamo, di modernizzazione del nostro Paese, come accennava anche il collega Giuffreppo Canzi. Sappiamo che il cosiddetto diritto costituzionale delle autonomie speciali qualifica i rapporti tra Stato e autonomia sulla base del metodo negoziale, del principio pattizio e quindi della natura pattizia anche delle fonti che derivano dall'applicazione di questo metodo. E da questo punto di vista commissioni paritetiche e norme di attuazione direi che sono proprio lo strumento per eccellenza di questa negoziazione paritaria e costituiscono, se vogliamo, anche un banco di prova di maturità nella gestione delle relazioni Stato-Regioni. Quindi sono uno strumento utile, ma direi anche che sono uno strumento necessario, perché non dimentichiamo che fin tanto che non si riuscirà ad attivare un procedimento di revisione degli statuti, che ricordo sono ormai quasi tutti piuttosto datati, quello della mia Regione è datato 1963, le norme di attuazione sono l'unico strumento che noi abbiamo per poter adeguare i nostri statuti alle mutate esigenze di contesto. E non è un caso, infatti, che le due leggi principali che hanno dato attuazione alla riforma del titolo quinto, la legge La Loggia, la legge sul federalismo fiscale, chiamino in causa proprio le commissioni paritetiche e le norme di attuazione per armonizzare gli ordinamenti speciali al nuovo quadro costituzionale. Certo, la stessa indagine conoscitiva a cui facevo riferimento prima, promossa la scorsa legislatura da questa Commissione, ha evidenziato che ci sono delle criticità, su cui, Presidente, mi soffermo brevemente perché, riflettendo, mi sono resa conto che alcune di queste non sono state risolte, quindi forse è opportuno magari segnalarle proprio in questa che è la sede, mi pare opportuna. Criticità che riguardano innanzitutto la composizione delle commissioni. In questa legislatura io e tutti i colleghi abbiamo toccato con mano le difficoltà di dare continuità ai lavori delle commissioni a causa delle crisi di governo che determinano automaticamente la decadenza dei membri di nomina governativa. Quindi su questo punto sarebbe auspicabile magari prevedere espressamente l'applicabilità dell'Istituto della Prorogazio oppure stabilire un termine entro il quale il Governo deve provvedere, una volta insediato, sia al rinnovo dei membri di sua competenza. Seconda criticità che riguarda l'interlocutore che le commissioni paritetiche hanno nello svolgimento del loro ruolo. Diciamo che le commissioni, se vogliamo, sono degli organi di consulenza del Governo. Però in realtà il nostro interlocutore, quando ci troviamo ad operare, sono gli apparati amministrativi ministeriali, non la politica. E apparati che spesso tendono a frenare, se non ad ostacolare le proposte delle commissioni, perché continuano, diciamo, culturalmente a considerare le autonomie speciali più come un'eccezione da contenere il più possibile che come, come dicevo prima, una componente costitutiva del nostro regionalismo. Ora sappiamo che gli apparati amministrativi spesso seguono logiche di tipo conservativo. Però questo cozza col significato delle norme di attuazione, che come dicevo prima, invece servono proprio ad innovare, cioè servono ad adeguare statuti datati alle mutevoli esigenze che ci provengono dalla realtà. Quindi, per capirci, gli obiettivi che si vogliono conseguire con le norme di attuazione non possono essere decise dagli apparati amministrativi. Devono essere decise dalla politica, perché i ruoli sono diversi. Gli apparati amministrativi devono porsi in una funzione, potremmo dire di problem solving, indicando le soluzioni tecniche che servono a conseguire gli obiettivi che la politica indica. Quindi, da questo punto di vista, sarebbe auspicabile un maggiore raccordo tra gli apparati amministrativi e l'indirizzo politico. Ultima criticità che segnalo riguarda proprio il procedimento di formazione delle norme. Perché? Perché ad oggi non esiste un termine perentorio entro il quale i Ministeri e poi il Consiglio dei Ministri debbano prendere in considerazione gli schemi di norme di attuazione. Attualmente noi facciamo riferimento come istituto al cosiddetto silenzio assenso tra PIA, silenzio assenso endoprocedimentale, cosiddetto. Però, a parte alcuni dubbi sull'applicabilità, su cui adesso non mi soffermo sul piano giuridico, questo istituto spesso non è appagante. Perché? Cosa può succedere? Può succedere che per rispettare il termine, che è di 30 giorni, quindi abbastanza breve, che gli apparati ministeriali hanno per esprimere il loro parere, facciano delle istruttorie carenti, delle istruttorie superficiali. Tutto questo ovviamente non giova alla qualità, se non addirittura alla legittimità del parere che poi esprimono, e frustra quel principio che dovrebbe invece guidare i procedimenti di approvazione delle norme di attuazione, che è il principio di leale collaborazione. Quindi su questo punto anche una riflessione va fatta, magari intervenendo sulla legge 400 dell'88, per la parte relativa alle competenze statali. Molto brevemente, la Commissione Stato-Regione Friuli-Venezia-Giuria, che ha l'onore di presiedere cosa ha fatto durante questa legislatura. Nonostante i vari stop and go, come ricordavo prima, ha lavorato parecchio, non solo sul versante delle norme di coordinamento della finanza pubblica, ma anche su altri fronti caldi, l'istruzione non universitaria, i contratti pubblici. Mi soffermerei brevemente proprio sul tema dei contratti pubblici, perché lo ritengo particolarmente significativo alla luce delle sfide che l'attuazione del PNRR ci pone. Con questa norma di attuazione, in buona sostanza, la Regione Friuli-Venezia-Giuria potrà, ovviamente nel rispetto del proprio statuto e dei limiti derivanti dalle fonti europee, disciplinare la materia dei contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, l'erativa a lavori, servizi e forniture, e anche prevedere interventi per agevolare la partecipazione agli appalti pubblici delle piccole e medie imprese. Questo riteniamo sia uno strumento molto importante per, diciamo, dare una scossa un po' al sistema produttivo, possa incentivare lo sviluppo economico e, dall'altra parte, sia anche uno strumento importantissimo di semplificazione e di razionalizzazione del quadro normativo e dell'attività della pubblica amministrazione, peraltro in linea con quelle cosiddette riforme abilitanti, che dovrebbero un po' essere la struttura portante del PNRR. D'altro canto, questa scelta, mi permetto di ricordare, è anche in linea con una delle caratteristiche storiche della specialità del Friuli Venezia Giulia, che è il governo dell'economia. Noi siamo una regione, diciamo, su doppio confine, che nasce come una regione nuova, all'interno della quale le condizioni di vita erano marcatamente diverse da zona a zona, di cui la necessità appunto di avere strumenti forti di governo dell'economia, ma queste necessità, dicevo, permangono tutt'oggi perché dobbiamo far fronte ad una concorrenza trasfrontaliera che non è banale. Quindi in questo senso, se vogliamo questa norma di attuazione, si può dire che tuteli anche il mercato nazionale, da un certo punto di vista. Un breve e conclusivo cenno, visto che mi pare che la Commissione fosse interessata alle sfide connesse alla pandemia e alla gestione del PNRR dalla prospettiva delle speciali e del Friuli Venezia Giulia in particolare. Parto dal versante pandemia e quindi dalla decretazione d'urgenza che ha caratterizzato gli ultimi due anni. Su questo fronte devo registrare, ma non lo registro ovviamente solo io, la riproposizione di un problema che si era già posto all'epoca della crisi economico-finanziaria, ovvero sia una legislazione statale emergenziale che deroga al modello di relazioni Stato-autonomie speciali che deriva dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. Vi faccio qualche esempio. Pensiamo alle manovre fiscali che lo Stato ha fatto con la decretazione d'urgenza, le manovre sull'IRAP, interventi diciamo latamente rientranti nella cosiddetta fiscalità di vantaggio. Ecco, facendo questo, per quanto riguarda in particolare per esempio il Friuli Venezia Giulia, lo Stato ha utilizzato risorse finanziarie della Regione e lo ha fatto incidendo direttamente sui flussi di entrata ordinari e correnti, in deroga alle norme di attuazione che disciplinano i rapporti finanziari. Certo, poi le ha compensate attraverso altri flussi di finanziamento, però il risultato netto che si è avuto è che lo Stato si è sostituito alla Regione nella funzione del governo dell'economia e del sistema produttivo. Altro esempio. Interventi diretti nei confronti degli enti locali. Voi sapete che le regioni speciali su questa materia hanno potestà esclusiva. Non solo il Friuli Venezia Giulia, come le altre regioni speciali dell'arco alpino, ha anche una competenza esclusiva sulla finanza locale e sostiene integralmente gli oneri relativi agli enti locali al posto dello Stato. Quindi ancora una volta con questi interventi diretti di fatto si sono creati dei canali di relazione funzionale direttamente tra enti locali e ministeri, che prima non c'erano, soprattutto il Ministero dell'Economia e il Ministero degli Interni, che hanno, diciamo, interferito in maniera significativa sugli equilibri del sistema regionale. Creando poi delle ripercussioni, soprattutto, e questo secondo me è il dato più preoccupante, creando un disallineamento tra competenze, risorse e responsabilità. Allineamento che, invece, in base ai principi di sana gestione finanziaria, le norme di attuazione che noi abbiamo approvato anche in questa legislatura perseguono in maniera molto forte. Fronte PNRR, come ultima cosa, anche qui lo schema di attuazione del PNRR ripropone le stesse problematiche. Su questo sappiamo che c'è un problema che riguarda tutte le regioni indistintamente, che è quello relativo alla governance del piano, rispetto alla quale le regioni, diciamo, non hanno un ruolo da protagoniste. E quindi qui va avviata una seria riflessione, magari anche guardando all'esperienza di attuazione del PNRR, per introdurre dei meccanismi di raccordo veramente efficaci tra Stato e regioni. Questo dicevo in generale. Ma per le autonomie speciali, e friuri Venezia Giulia in particolare, si pongono anche problemi più specifici e più immediati. Perché questo modo che il Governo ha deciso di dare attuazione al PNRR ancora una volta praticamente mette in discussione la funzione della regione di perno del sistema territoriale integrato. Quindi mette in discussione quella funzione che le regioni speciali, in particolare quelle dell'arco alpino, si sono conquistate nel tempo, di garanti di un sistema che comprende la regione, gli enti locali, gli enti regionali e tutti i soggetti della finanza pubblica allargata, rispetto ai quali la regione stessa si assume la responsabilità di farsi garante verso lo Stato. E ovviamente si fa garante di tutte le conseguenze in termini di equilibri dei bilanci e di sostenibilità della spesa pubblica. Questo, diciamo, secondo l'idea che sta alla base del modello del sistema integrato significa dimostrare che la solidità di un edificio, che in questo caso è la finanza pubblica allargata, deve partire dalle fondamenta. E il modello del sistema integrato costituisce, diciamo, un mattone particolarmente solido. Coerentemente con questa visione, il Friuli Venezia Giulia, per esempio, sta cercando adesso all'interno del proprio territorio di mantenere questo ruolo di perno nell'attuazione del PNRR, nei limiti in cui può. Ha creato una cabina di regia a cui partecipano anche gli enti locali, una segreteria tecnica operativa a cui partecipano anche gli enti locali. Però voi capite che, diciamo, la logica del sistema integrato e del metodo negoziale mal si conciliano con gli schemi di attuazione di un PNRR improntati a meccanismi top-down, in cui solo le amministrazioni centrali, ministeriali, sono i soggetti titolari, che di fatto decidono al posto della Regione pianificazione, programmazione e coordinamento. Questo io lo segnalo come dato abbastanza preoccupante perché ricordo che qui si deroga ancora una volta ad un modello che deriva da fonti di rango costituzionale, gli statuti speciali e relative norme di attuazione. Per cui si potrebbe riproporre il problema a valle, cioè la Regione può essersi tagliata fuori, ma a valle con rischio di contenziosi e quindi di blocco dell'attuazione del piano. Di cui, a mio sommesso avviso, la necessità di introdurre qualche piccolo correttivo di rotta per cercare di trovare un corretto bilanciamento tra le esigenze di attuazione del piano, che siano rapide, che siano efficaci, e il mantenimento però di questo patrimonio, di questo piccolo patrimonio, che sono i sistemi territoriali integrati, che cercano di esprimere una nuova e forse anche una più matura cultura istituzionale. Grazie. Ringrazio. Professoressa, chiedo se ci sono interventi. Prego, la collega Tripodi. Sì, grazie. Ringrazio la professoressa, la Presidente. Volevo fare questa domanda. Ho letto diversi articoli di giornali locali che appunto parlavano di reintroduzione delle province, di volontà di reintrodurre le province. Allora, leggendo questi articoli mi sembra abbastanza chiara la direzione che vuole prendere il Governo regionale, però io mi chiedevo, siccome viene menzionata anche la Commissione paritetica all'interno di questi articoli, mi chiedevo se la Commissione ha una sorta di competenza nell'elaborazione di uno schema di decreto che vada verso appunto la reintroduzione delle province in Friuli-Venezia-Giulia senza la necessità di un intervento normativo, diciamo, di iniziativa parlamentare. Grazie. Perfetto. Rossini, prego. Grazie, grazie professoressa. Due cose volevo porle, due temi. Il primo, ecco, da queste audizioni io rappresento il Trentino Alto Adige, quindi un'altra autonomia speciale, stanno emergendo dei punti di convergenza. Sicuramente quello sottolineato anche lei, che è una forte criticità, quello di evitare questi stalli all'operatività e alla funzionalità delle paritetiche. Quindi dovute proprio sia alla composizione sia anche ai tempi e su questo potremmo proprio come frutto di queste audizioni porre il tema, proprio perché siamo in una legislatura dove si vanno a toccare i regolamenti del Parlamento e si deve proprio rivedere. Ecco, la cosa che quindi nell'ambito di questa riflessione volevo chiederle, nello stesso tempo questa pandemia ha visto aumentare l'efficacia di un altro organismo che è la conferenza Stato-Regione. Non solo è documentato dai numeri di atti legislativi mai visti, ma anche dal fortissimo coordinamento tra la conferenza Stato-Regione e lo Stato. Allora, le volevo chiedere, siccome siedono gli stessi governatori che poi presiedono in forma politica le paritetiche, qual è stato il collegamento eventualmente tra i due livelli. Ecco, l'altra cosa rispetto al PNRR. In realtà quello che diceva che l'attuazione prevede un procedimento, un processo top down, in realtà non è così, nel senso che, e lo vedo seguendo il mio territorio, proprio dalle autonomie speciali può emergere e sta emergendo un modello che è di grande aiuto anche per le altre regioni. Perché il fatto che si sia creata una cabina di regia sul PNRR, lo abbiamo fatto anche noi. Il fatto che siamo stati costretti veramente a rivedere tutte le nostre politiche finanziamenti, integrando, poi dopo c'è tutto il discorso dei fondi europei che non sono stati conteggiati, diciamo, ma proprio da un punto di vista dell'operatività anche nella gestione della finanza pubblica, non crede che sia un modello da rilanciare, perché oggi sui bandi, a livello comunale per esempio, ma anche a livello di medie città, c'è un grande problema a livello nazionale. Alcuni riescono a fare i bandi, alcuni no. Quindi il fatto che ogni regione, anche a statuto ordinario, si costruisca proprio sulle risorse, sui potenziali del proprio territorio, una cabina di regia, di progettualità, è esattamente quello che stanno facendo le province di statuto speciale. Quindi a mio parere andrebbe rilanciato questa cosa, più che, mi permetto di dire, difenderci dall'approccio dello Stato, in quanto il PNR proveniendo dall'Unione Europea ha una forza statale maggiore di tutti gli altri provvedimenti e ovviamente il ruolo, in questo caso, assunto un ruolo anche di player, di grande player degli investimenti. Allora mi chiedo, ecco, rilanciare l'azione dei territori, io credo che in prima veste dalle autonomie speciali che hanno gli strumenti e abbiamo messo a punto delle cabine di coordinamento. Non so cosa... Grazie. Perfetto, la ringrazio. Adesso do la parola alla professoressa Dorlando per la replica. Prego. Grazie, Presidente. Parto dalla domanda posta dall'onorevole Tripodi. Lei in realtà pone un tema su cui stiamo ragionando da parecchio tempo, potremmo dire, in punta di diritto costituzionale. Come lei sa, le province sono state abolite, sono state soppresse con l'eliminazione dallo Statuto Speciale con la legge costituzionale 1 del 2016 e conseguentemente la legislazione regionale è stata completamente rivisitata introducendo delle forme di aggregazione tra enti locali dapprima obbligatorie, le unioni territoriali intercomunali e poi, seguendo diciamo la linea più morbida, potremmo dire, del testo unico rinnovato dalla Della Rio, forme di collaborazione più o meno facoltativa, salvo per le zone montane, dove comunque ci sono dei vincoli, diciamo, aggregativi più stringenti per evidenti ragioni. Ora, dipende e su questo ho discusso a lungo anche con il Presidente, ma ne parlavo anche col Ministro per gli Affari Regionali. Dipende dal tipo di provincia che uno ha in mente. È chiaro che se noi abbiamo in mente le province del 114, la strada, il percorso da fare è esattamente a ritroso rispetto a quello fatto. Se invece abbiamo in mente degli enti locali che a dispetto del nome NIURIS possano avere comunque funzioni aggregative di ente di aria vasta, allora si deve iniziare a ragionare sulle norme di attuazione in materia di ordinamento degli enti locali e capire se la norma che c'è, che è un decreto legislativo nel 2 del 97, sia sufficientemente a maglie larghe per consentire interventi incisivi oppure no e, in caso di risposta negativa, procedere con una nuova norma di attuazione. Questo è un po' lo stato dell'arte sul punto. Per quanto riguarda l'intervento poi articolato in vari sub-punti dell'On. Rossini, sì, sul tema delle composizioni delle commissioni paritetiche, la mia opinione sarebbe che è opportuno intervenire, ripeto, la legge 400 dell'88 mi sembrerebbe la fonte più adatta, non solo per introdurre per l'appunto l'istituto della prorogazio o comunque la fissazione di un termine ad quem, ma anche per introdurre poi tutta una serie di innovazioni che potrebbero agevolare i nostri lavori. Altro tema che non ho trattato per ragioni di tempo, ma per cui vi rinvio al testo scritto. Pensiamo a cosa succede nel caso in cui si debbano comporre dei conflitti, cioè delle divergenze di opinione tra la commissione e i ministeri o tra la commissione e il consiglio dei ministri. Qui, per esempio, abbiamo qualche punto fermo. La Corte Costituzionale, in una sentenza di diversi anni fa, ha detto, per esempio, che il Governo non può introdurre unilateralmente emendamenti al testo della norma di attuazione approvata dalla Commissione se prima non la sottopone di nuovo al parere della Commissione. Però questo non risolve ovviamente tutto. Quindi anche questo potrebbe essere un elemento interessante per un emendamento. Per quanto riguarda la conferenza dei Presidenti delle Regioni, si tratta di un organo, a mio avviso, estremamente interessante. Da costituzionalista dico che si tratta probabilmente dell'elemento maggiormente innovativo nel panorama costituzionale a cui noi abbiamo assistito negli ultimi anni. E non è un organo, diciamo, che abbiamo inventato noi nel panorama comparato. Penso all'ordinamento austriaco, tanto perché è un nostro vicino di casa. C'è questa conferenza, si chiama Conferenza per l'integrazione dei Lender, che è un organo potentissimo, tra virgolette, addirittura più del Bundesrat, cioè più della Camera rappresentativa degli enti territoriali. È un organo funzionale a agire in maniera rapida ed efficace, per cui io in prospettiva, piuttosto che pensare a improbabili clausole di supremazia da inserire nella Costituzione, che poi lasciano il tempo che trovano e creano solo contenzioso, io penserei di ragionare proprio sul modello della Conferenza dei Presidenti, per inserire in questo modo le autonomie territoriali nei processi decisionali dello Stato centrale. Ovviamente, qualora non si volesse seguire la strada maestra che io continuo a ritenere preferibile, cioè quella del Senato delle Regioni. Per quanto riguarda, ecco, che rapporti noi con la paritetica, con la conferenza dei Presidenti? Beh, diciamo che viaggiamo su binari diversi. Le commissioni paritetiche si occupano delle norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia. Certo è che i Presidenti di Regione sono in costante raccordo con le commissioni paritetiche, perché, come lei sa, sono a composizione mista. Quindi, se non altro, la componente regionale ha un contatto costante. Nel caso nostro devo dire che, dal punto di vista istituzionale, io stessa, pur essendo di nomina governativa, mi relaziono sempre anche col Presidente Fedriga. PNRR, sono d'accordo con lei. Le Regioni a Statuto Speciale, proprio in virtù della loro potestà organizzativa dell'ordinamento locale. Sono laboratori di sperimentazione molto interessanti, anche su questo versante. So che anche voi, sia Trentino che su Tirolo, avete adottato uno schema simile al nostro, a due livelli, cioè cabina di regia, tavolo tecnico. Benissimo, a livello organizzativo stiamo facendo tutto quello che possiamo, resta però il problema a monte. Cioè noi ci troviamo sempre a dare attuazione a scelte rispetto alle quali non c'è stata un'interlocuzione, un coinvolgimento. E come lei sa, visto che poi le riforme devono correre sulle gambe delle persone, l'attuazione del PNR deve correre sulle gambe delle amministrazioni regionali e locali. Quindi io dico, sarebbe più funzionale alla miglior riuscita dello stesso PNRR se ci fosse una maggiore collegialità. Anche qui il panorama comparato ci soccorre con esempi molto utili. Germania, Austria, Spagna, Belgio, sono tutti ordinamenti in cui l'interlocuzione con i livelli di governo regionale è stata un po' più incisiva. Perfetto, la ringrazio. Vedo che c'è un altro intervento della collega Drago. Noi siamo veramente in estremo ritardo, tra l'altro in attesa anche il dottor Scalette per poter intervenire. Quindi chiedo alla collega Drago magari se volesse far pervenire le sue osservazioni, domande alla professoressa Dorlando, magari anche via e-mail le recepiremo come commissione, magari potremo anche inoltrarle noi alla professoressa Dorlando, se la collega è d'accordo. Perché ahimè hanno anticipato i tempi del Senato, purtroppo è una cosa che non potevamo... e stanno per votare. La ringrazio, la ringrazio collega. Quindi ringrazio la professoressa Dorlando. Grazie presidente, grazie alla commissione. Acquisiamo la sua relazione e la inoltreremo a tutti i colleghi. Sì, ecco, purtroppo sono costretta, saluto il dottor Scalette, sono costretta a mio malgrado a dover interrompere anche questa audizione. Ci scusi veramente, dottor Scalette, purtroppo non dipende da noi, ma è dai tempi del Senato che ha anticipato le votazioni. Ecco, le chiediamo se è possibile, ovviamente in base alle sue disponibilità, se ritiene di poter intervenire magari in un'altra sessione. Magari ci dica lei quando ritiene. La prossima settimana magari. Sì, per me ogni giornata più o meno è utile. Perfetto, magari le facciamo una... ...con la dottoressa Cifani, con la segreteria, in modo da concordare questa audizione. in Italia, la seconda volta che mi saltano, insomma, capisco anche evidentemente le priorità. Io sono disponibile, insomma, e mi però d'accordo con la segreteria per fissare in una giornata, in una mezza giornata in cui sia possibile avere la garanzia per intervenire, perché se dobbiamo inserirci i passaggiati in un minuto piuttosto all'altro, quello anche... Certo. Assolutamente. La ringrazio per la sua disponibilità, quindi la contatteremo per riprogrammare questa audizione. Possibilmente. Gentilissima, la ringrazio. Buongiorno. Buongiorno, Presidente. Buongiorno a tutti. Grazie. 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 Grazie.